Buonasera e benvenuti a Roma nella sala dedicata all'estrazione del Super Enalotto. Chi possiede oggi, sabato 17 gennaio, la ricevuta della giocata del Super Enalotto può vincere 1.816.813 euro. Sono già iniziate le operazioni relative al concorso numero 8. Le 90 sfere numerate per la sestina vincente del numero jolly sono state caricate. Ed ora con l'autorizzazione della commissione di controllo diamo il via all'estrazione di questa sera. Le sfere sono scese nell'urna elettronica e inizia il loro mescolamento automatico. Andiamo a scoprire insieme il primo numero della sestina vincente. Il primo numero estratto è il numero 22. Proseguiamo con il secondo numero di questa sera. Il secondo numero estratto è il numero 31. Nel terzo numero si inizia a vincere. Il terzo numero estratto è il numero 80. E aspettiamo il quarto numero che ci porta verso premi importanti. Il quarto numero estratto è il numero 54. Quinto e penultimo numero. Il quinto numero estratto è il numero 18. E con il sesto numero si completa la sestina vincente. Il sesto numero estratto è il numero 71. Abbiamo ora i sei numeri che possono segnare il jackpot. Passiamo quindi all'estrazione del numero jolly per l'attribuzione dei premi di seconda categoria. E il numero jolly di questa sera è il numero 52. E controlliamo insieme la sestina vincente in ordine di estrazione ed il numero jolly. 22, 31, 80, 54, 18, 71, numero jolly, 52. Ed ora passiamo al numero superstar. È il numero che ciascuno di voi può scegliere o che viene assegnato casualmente dal terminale di gioco. Già al momento della convalida della giocata può far vincere premi istantanei da 5 euro fino a 10.000 euro. La sua estrazione avverrà grazie a questa seconda urna elettronica caricata con le sfere da 1 a 90. E procediamo con l'ultima estrazione di questa sera. Vi ricordo che il numero superstar preme anche lo 0, l'1 e il 2 e moltiplica 25 volte le vincite del 5 e 100 volte quelle del 4 e del 3. E il numero superstar di questa sera è il numero 43. E ricontrolliamo insieme tutti i numeri del concorso numero 8 del Super Enalotto con la sestina vincente in ordine crescente. 18, 22, 31, 54, 71, 80, numero jolly 52, numero superstar 43. E l'estrazione di oggi, sabato 17 gennaio, è terminata. Tra pochi minuti scopriremo insieme se il jackpot di oltre 1.800.000 euro è stato assegnato ad uno più vincitori. Io vi aspetto sempre qui su Sisa TV, la rete in diretta con la fortuna. Ben ritrovati qui su Sisa TV, la rete in diretta con la fortuna. Poco fa abbiamo seguito l'estrazione dei numeri vincenti nel concorso numero 8, che vi ricordo ha messo in palio il jackpot di oltre 1.800.000 euro. E anche questa sera il Super Enalotto ha per voi numerosissimi premi. Abbiamo infatti 73.094 vincite. Ma è il momento di scoprire insieme se questa sera ci sono uno più vincitori del jackpot. E il computer ci comunica che non è stato realizzato il 6 né il 5 più 1. I 5 sono 6 e vincono 42.456 euro ciascuno. I 4 sono 726 e vincono 364 euro ciascuno. I 3 sono 27.806 e vincono 18 euro ciascuno. Ed ora passiamo al Super Star, il numero stella che moltiplica le vincite del 5, del 4 e del 3 e premia anche con 0, 1 e 2 punti. Ed ora vediamo nel dettaglio tutte le quote. Nessun 5 stella? I 4 stella sono 2 e vincono 36.466 euro ciascuno. I 3 stella sono 116 e vincono 1868 euro ciascuno. 100 euro vanno ai 2.053 2 stella. 10 euro vanno ai 13.118 1 stella. 5 euro vanno ai 29.267 0 stella. Ed ora andiamo insieme a scoprire il jackpot del prossimo concorso. 2.300.000 euro. Io vi ringrazio per essere stati qui con noi. Il Super Enalotto vi dà appuntamento a martedì 20 gennaio, sempre qui su Sisa TV, la rete in diretta con la fortuna. Grazie. Grazie. Grazie.